C'è bisogno di una sinergia tra istituzioni locali, interporto, regione e governo. In quest'area arriveranno non solo la conferma dell'autorità portuale a Civitavecchia, ma il caso Fiumicino che spero si risolva rapidamente. C'è già un impegno del Ministro Lupi a portare l'alta velocità in collegamento Roma-Fiumicino e probabilmente anche la terrenica. Questo diventerà uno dei nodi strategici più importanti dell'intera Italia. La visita di oggi è l'occasione anche per fare un punto sulla situazione interporto. Gli anni sono passati, i problemi ce ne sono stati. Oggi che situazione ha trovato? Gli anni sono passati, è vero, ma diciamo che la nostra venuta qui è giovane, perché noi siamo venuti qui l'8 febbraio del 2013. Nonostante che è poco che siamo qui, in un anno e mezzo abbiamo cercato di addrizzare l'andamento generale dell'interporto. Noi abbiamo trovato una steppaglia totale con della gente che non sapeva cosa dovesse fare il giorno dopo. Oggi perlomeno sa cosa fare il giorno dopo. Abbiamo nuove prospettive, abbiamo degli accordi e abbiamo anche dei progetti che hanno sensibilizzato realtà nazionali e internazionali. Per cui stiamo faticando, ecco perché ho chiesto in qualche modo l'aiuto del Governo centrale perché è impensabile che una realtà del genere diventi o rimanga una cattedrale nel deserto. Questo è un appendice naturale del porto. Allora se si creano sinergie potremmo andare avanti, tenendo conto che oggi stipendiamo 44 persone, ma il potenziale qui è di tre volte, quattro volte. Quello che era il potenziale all'inizio, quando c'erano tutti i buoni progetti. Quindi ben felice, quindi non solo, oggi stiamo salvaguardando faticosamente lo stipendio a queste persone che comunque sono patria e famiglia, comunque hanno muto, comunque hanno una realtà che comunque va salvaguardata. Perché l'imprenditore non può fare solo l'imprenditore, ci vuole anche un po' di cuore, altrimenti non funziona. È un peccato non ottimizzare il potenziale, tutto qui. Vedremo se poi le promesse, se diventassero realtà saremo tutti contenti. Noi non cediamo, noi siamo qui aiutati da questi ragazzi che ci aiutano, non guardano l'orario, sono molto ben disposti, a parte qualche mera marcia, ma questo nel contesto ci sta. Per cui andiamo avanti, faremo un sacco di baccano perché ci dobbiamo riuscire. È un peccato, ci sono decine e decine di milioni di euro spesi, sarebbero buttati e non va bene. L'Italia che stiamo vivendo non va bene, dobbiamo ottimizzarla, dobbiamo produrre. Un porto che va al di là delle crociere, l'abbiamo detto più volte, ma ci sono dei risultati concreti? Sì, nel 22 abbiamo approvato in Comitato Portuale l'adeguamento tecnico funzionale, che è la procedura amministrativa che consente di salire al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la cui approvazione arriverà entro il 30 settembre, data successiva alla quale chiaramente noi procederemo con la realizzazione del Terminal Container, che è la vera grande speranza in termini occupazionali per l'intero territorio, oltre al retroporto. Poi ai primi di ottobre chiaramente partirà il traffico, che tutti conoscono mai, delle nuove autovetture. Insomma, alla fine del 2014 sarà ricca di novità importanti in termini di nuovi traffici. Fermo restando che il retroporto lo guardiamo con grande interesse, proprio perché si sta sviluppando questa occasione straordinaria, con primario interlocutore a livello internazionale e questo porterà un ulteriore impulso a quel grave problema che è la disoccupazione non solo giovanile, ma anche la ricollocazione di tanti lavoratori che oggi hanno perso il lavoro. In più la conferma del mantenimento dell'autorità portuale appunto di Civitavecchia? Sì, questo sono un po' imbarazzato da Presidente Assoporti. Si sono scelte le 14 autorità che fanno parte del core network. Civitavecchia è andata in deroga perché rappresenta l'area metropolitana, quindi rappresenta il porto di Roma. E quindi chiaramente da questo punto di vista siamo riusciti a far comprendere come questo sia l'unico grande nodo che insiste nel centro Italia, ma anche a livello nazionale posso dire. Devo dire che non abbiamo trovato però assolutamente blocchi o veti da parte di nessuno, anzi erano tutti concordi sul fatto che Civitavecchia dovesse essere porto di core network e quindi anche l'autorità portuale di Civitavecchia rimarrà tale. La visita di Nencini conferma l'importanza del retroporto, quindi dell'interporto di Civitavecchia. Serve però un aiuto anche dal governo in questo senso, un aiuto economico? Noi abbiamo presentato tutti i piani. Fino ad ora in Europa abbiamo preso quattro call su quattro. Per spiegare a chi ci ascolta, a chi ci guarda, le call sono dei progetti che tu presenti e richiedi dei finanziamenti in Europa. Noi ne abbiamo presentate quattro. Abbiamo un ragazzo di Civitavecchia molto molto preparato, che è fisso in Europa perché fa parte della rappresentanza permanente per la presidenza del semestre italiano presso Bruxelles. Questa sinergia che si è creata anche con la Regione Lazio e con le straordinarie risorse umane che la Regione Lazio ha messo in Europa a guardare i fondi infrastrutturali, da questo punto di vista abbiamo iniziato bene. A livello centrale abbiamo sbloccato il primo lotto delle opere strategiche, con 143 milioni. Stiamo presentando, abbiamo progettato in questi due anni, perché anche qui è difficile da comprendere, ma non è che si realizza un'infrastruttura dall'oggi al domani così. Bisogna progettarla, prendere tutte le autorizzazioni ambientali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Passa un anno soltanto per la presentazione dei progetti, un altro anno per l'approvazione. Ora saliamo al Comitato Interministeriale, che è quello che finanzia, con l'ulteriore progetto del secondo lotto delle opere strategiche. Da questo punto di vista Civitavecchia, a livello internazionale, soprattutto gli operatori, gli Stati Uniti, piuttosto che la Cina, piuttosto che l'India, guardano con grande interesse. Noi abbiamo chiuso, io ho chiuso ad aprile scorso, non l'ho comunicato perché, ahimè, questa è una mia pecca, non lo faccio mai. Non ho comunicato ai cittadini Civitavecchia, a tutti coloro, insomma, di Fiumicino e di Caeta, perché siamo un network. L'accordo che abbiamo chiuso con l'area dei porti di New York, del New Jersey, di Detroit e di Baltimore, per importanti traffici che non toccano solo le automobili, ma anche il traffico container. Per ora facciamo lavorare il piccolo terminal che c'è, fermo restando che chiaramente noi non permettiamo a nessuno di inserire e di mettere bandierine nel nostro porto. Chi vuole investire nel nostro porto deve essere in grado di investire, di dare occupazione, ma soprattutto di realizzare ciò che mette per iscritto.